Creare una mappa genetica che individui le somiglianze e le differenze tra le popolazioni delle diverse regioni d'Italia e più in generale tra coloro che vivono sul Mediterraneo. È il senso della ricerca che stanno portando avanti all'Università di Pavia e che nello scorso weekend ha ricevuto un grosso contributo dalla donata degli alpini ai quali è stato individuato il DNA attraverso alcuni sciacqui con il collutorio. Circa 600 i campioni raccolti sullo stand sul pubblico passeggio che vanno ad arricchire un archivio di 4.000 prelievi già in laboratorio. La ricercatrice Anna Olivieri ci ha spiegato che con il materiale a disposizione oggi sono rappresentate praticamente tutte le zone d'Italia. Le analisi che consisteranno in elaborati test genetici iniziano ora. Tra un anno sono attesi i risultati.